In diretta dal core a pochi minuti dal termine dell'inaugurazione. Ce l'abbiamo fatta. Presentarsi. Luca Bosi, Presidente. Mezzani Nicola, Presidente. No, non ho il nome. Mezzani Nicola. No. Nicola Mezzani. Moreno Messoro. Direttore di Produzione. Bene. Avanti. Allora, come vedete, a comunicazione non stiamo messi benissimo. Ma invece, a capacità tecnico-produttiva, siamo messi molto bene. Anche ma invece non si direbbe. Molto bene. O ma o invece. Perché siamo arrivati finalmente in fondo ad un'impresa incredibile, partita nel 2013, dopo il concordato di Orion. Tre anni di duro lavoro, 30 milioni di lavoro e oggi è davvero una grande soddisfazione per Sicrea Group, aver contribuito a questa grande opera che rimarrà nel tempo di questa comunità. ora. Adesso passarei la parola al nostro direttore di produzione che ci racconta un po' com'è fatta la struttura. Due parole. Due. Cioè, tipo la presentazione che ha fatto l'ingegner Mazzi. Sei sempre in diretta, te lo ricordiamo. Sei in diretta. Sei in diretta. Non è registrato. È vero. È vero però. Bene. Abbiamo zero spettatori. Però siamo in diretta. E quante aspettative? Molte. Sono di tre sempre. Altissime. E quindi cosa volete sapere? E la tua connessione è debole? Perché la mia connessione è debole? Intanto abbiamo uno spettatore. Tombola. Chi è? Da quando siamo passati a Moreno l'odias è aumentato del 100%. Vedi? Da zero armato. Vedi? Quanta altra storia. Ho anche il nome. Se volete lo dico eh. Dillo, dillo, dillo. No, non lo dico. Dillo. Dillo. È un amante del gourmet. Va. Vuoi per cortesia raccontare come ha fatto la struttura? Una struttura in cemento armato tamponata con dei serramenti in alluminio. Detta così non ha core. No, non ha core. Ha fatto la battuta. Ha fatto la battuta. Ha fatto la battuta. Passa su di me. Sai. Devo dire che è stata una bella soddisfazione. Pizzani Nicola parlo. Pizzani Nicola parlo io. Devo dire che è stata veramente una soddisfazione perché in un certo momento quando è stato detto che ci sono voluti cinque anni, è la verità che poi non sono stati cinque anni per voi. Siamo partiti nel 2013 quindi sono stati poi tre anni. di pensare in Italia a fare una struttura di genere ad entrambi. Ci vuole la sua sicurezza. Devo dire che i nostri ragazzi hanno veramente lavorato molto 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 bene e con grandi impegni. E' una soddisfazione davvero. Sì, nonostante tutti i problemi che ci sono stati. Vedi i problemi sui strumenti, vedi i problemi sui strumenti. Dai, dai, dai! E' partito! Vedi tutte le complessità che ci sono state nel mettere insieme un sacco di professionisti e di professionalità per riuscire a completare l'opera. Io dico solo questa cosa che quando passiamo su Moreno raddoppiamo sempre, siamo a due. Vedi? Sarà un caso ma io li pago i miei spettatori. Lui è televisivo. E' il voto igienico. Ha parlato di argomenti che generalmente sono molto attrattivi. Mattoni, finestre, serramenti. C'è un termine tecnico ma inelegante. E' inelegante. Ma noi lo sappiamo. Il problema delle porte. Il problema delle porte. Il progettismo. Il risultato di quando parli di queste cose è un po' come quando parli di calcio in una riunione di soledonia. Sfumiamo, sfumiamo. Ecco, diciamo anche che l'effetto di questo video è di tre che hanno partecipato a un banchetto che però non c'è stato. Esatto. Perché è sembrato ubriachi ma non c'è stato nessun banchetto. Siamo ubriachi di felicità. Siamo ubriachi di felicità. Ecco, io stavo dicendo ebre di gioia. Ebre di gioia. Ma io queste parole non le conosco. Ma la sostanza? La sostanza vuole dire quello. Bene. Con l'utopia mi sono addormentato. No, l'utopia, ragazzi, è una cosa sempre importantissima. Noi siamo utopici per definizione. E di conseguenza siamo noi che spostiamo l'orizzonte, non l'orizzonte che sposta noi. E su quell'orizzonte c'è sempre scritto sicurezza. Bella. Mi è piaciuta. Allora diamo una parola conclusiva di questa prima di tantissimi collegamenti perché credo che andremo avanti quando domattina. Oh, fino a notte fondi. Molto più di tenereggio. Molto di tenereggio. La lasciamo al nostro Presidente. Addirittura. Eh, certo. Infatti è lui. Ecco che è lento subito. Benzani Nicola. Benzani Nicola è il Presidente. Prego. Avanti così. Avanti così. Vedi che c'è così. E andiamo a vederlo perché da Presidente non l'ho mai visto. Stiamo a zero, eh. Stiamo a zero. Però possiamo solo migliorare. Te l'hanno pagato? Ah, qui c'è la gag. Non l'hanno ancora pagato? È un pagherò. È un pagherò. È un pagherò. È un pagherò. Chiudiamo. Prima che diventi elemento dell'ufficio legale. È diventato di moda. Prima che arrivi l'ufficio legale.